Ciao a tutti! Sono il dottor Fabio Castiglione, andrologo a Londra. Oggi vorrei parlare di un aspetto molto importante per la salute maschile, l'importanza di urinare correttamente. Potrebbe sembrare un piccolo gesto, ma ritrarre il prepuzio durante la minzione è fondamentale. Questo semplice atto previene l'accumulo di urina tra il glande e il prepuzio, un ambiente che può favorire le infezioni e contribuire all'insorgenza di condizioni come la fimosi. Ecco una breve guida su come urinare correttamente. Prima di tutto, ritraete completamente il prepuzio. Durante la minzione, assicuratevi che il flusso di urina sia diretto e non ostacolato. Infine, dopo la minzione, pulite l'area e riposizionate il prepuzio nella sua posizione naturale. Cosa molto importante! L'igiene intima è fondamentale per prevenire le infezioni del tratto urinario e i problemi della pelle. Una pulizia inadeguata può portare a condizioni come balanite, fimosi e infezioni urinarie. Parlando di fimosi, è una condizione in cui il prepuzio non può essere ritratto completamente. Questa condizione può essere aggravata se non si ritrae il prepuzio durante la minzione. In alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento medico o chirurgico. Ecco alcuni consigli per mantenere una buona salute intima. Mantenete una routine di pulizia quotidiana. Fate visite regolari dall'andrologo per controlli preventivi e non esitate a parlare di qualsiasi preoccupazione. E se notate rossore, dolore o difficoltà nella retrazione del prepuzio, consultate un medico. Per concludere, abbiamo visto come una corretta minzione e una buona igiene quotidiana siano importanti per la salute intima maschile. Per qualsiasi consiglio o assistenza, visita il mio blog Ask Fabio e segui il mio canale YouTube. La tua salute è la prima cosa che conta. La tua salute è la prima cosa che conta.